Benvenuti nella Galassia Rattix. Cerchi un'auto dal design inconfondibile, sostenibile e che si adatti perfettamente alla città? Questa Fiat 500 ibrido è ciò che fa per te. Con il suo stile iconico e tecnologia all'avanguardia, questa Fiat 500, usata ma in ottime condizioni, immatricolata a settembre 2020, ti sorprenderà ad ogni curva. Il motore ibrido benzina più elettrico ti permette di guidare in modo ecologico, senza rinunciare alle prestazioni. E con il suo elegante colore blu Italia, non passerà inosservato. Agile e scattante grazie al cambio manuale e alla trazione anteriore, questa Fiat 500 è perfetta per chi ama destreggiarsi nel traffico con stile. Con 55.937 km certificati, è pronta per regalarti nuove avventure. Curioso di saperne di più? Visita rattix.it Grazie a tutti.